A meno di due settimane dall'apertura ufficiale di tutte le scuole italiane, mancano ancora certezze sulle norme e sul comportamento da tenere. Mentre gli istituti superiori hanno iniziato con i corsi di recupero, il Ministero ancora non ha diramato alcun regolamento ufficiale. Linee guida, come mascherine fra i banchi e ingressi scaglionati nelle aule, dovrebbero essere sicure, ma non vengono ancora chiarite ed ufficializzate. Dubbio anche sulla stessa data di apertura. A causa dell'ammento dei contagi e delle imminenti elezioni, in molti, compreso il Presidente della Campania De Luca, avevano ipotizzato uno slittamento della data d'inizio a fine settembre. In questo caos è naturale la preoccupazione. Soprattutto per bambini e ragazzi, che dovranno affrontare il ritorno tra i banchi in piena pandemia. Abbiamo raccolto i primi commenti dei cittadini torresi. Lei è preoccupato per l'apertura delle scuole? Diciamo di sì, penso. È una preoccupazione un po' generale, penso. Pensa che le norme siano sufficienti? Ad oggi, cioè, bisogna vedere tra una quindicina di giorni quando effettivamente inizieranno ad aprire le scuole e poi si vedrà, penso, con le norme. Lei è preoccupato per l'inizio della scuola? Ah, altro che, perché c'è i ripoti? Sono preoccupata, però confido comunque nelle autorità, quindi spero che inizi un anno tranquillo e senza preoccupazioni. Quindi pensa che le norme possano funzionare? Eh, lo spero, perché comunque la didattica a distanza non è semplice. Lei ha nipotini? Sì. È preoccupato del fatto che ritorneranno a scuola? Come no? Pensa che le norme funzionino a evitare i contagi a scuola? Niente, non funziona niente. Là basta un solo bambino che fa un corpo di tosse, devono aiutare le scuole. È preoccupato del fatto che rientrino a scuola a settembre? E come no? Non ci sono ben chiarimenti di queste cose. Quindi pensa che le norme non siano chiare? Non sono chiarissime, è vero. Pensa che aumenteranno i casi? Io penso di sì, ma se non appena aumentano chiuderanno un'altra volta tutto.